E costruire l'alternativa è il terzo incomodo delle elezioni amministrative di San Cipriano-Picentino in programma per la prossima primavera. A presentare il movimento Dario Noschese. Costruire l'alternativa è questo movimento politico che abbiamo presentato il 14 dicembre all'Aula Consiliare di San Cipriano che ha voglia di dare voce a tutti quei cittadini che in questi anni hanno avuto poco spazio e poco interesse da parte dell'amministrazione del nostro comune. Siamo un gruppo giovane, stiamo lavorando già da un anno per cercare di costruire questo progetto e proprio il 14 abbiamo lanciato una serie di proposte di carattere programmatico per animare il dibattito politico in vista delle prossime elezioni. Noi vorremmo dire la nostra in questa competizione, abbiamo lanciato tante idee, siamo disposti ad ascoltare anche i suggerimenti e le critiche dei cittadini che vogliano darci una mano a crescere e quindi ci apprezziamo a essere presenti al prossimo appuntamento elettorale della primavera 2019. Siete un po' il terzo incomodo di queste elezioni? Sicuramente sì, siamo la maggior parte dei ragazzi che però hanno voglia di far pesare la loro voce. la maggior parte di noi ha la prima esperienza politica, io ho fatto già precedentemente un po' di attività politica sul territorio però sicuramente sì, ci poniamo come una sorta di terzo polo nella prossima scena politico-elettorale.